Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio del reboot di Rashid Clank, quello per il PS4, anche se io credo sia l'unico, vabbè comunque ce l'avamo lasciati qua a battaglia, e niente andiamo avanti. Come sempre va ciccio, andiamo di va. Sempre questo slow motion per quanto riguarda, diciamo, le rotaie, sui salti laterali intendo, quei davanti no, insomma, il laterale dovete fare slow motion, ma ora no, pensavo vantassi è finito. No, io vi salto, lo faccio prima. Ratchet, i Black avanzano verso l'osservatorio, ci farebbe comodo una mano, è in fretta. Ci siamo quasi, Cora, tu cerca di tenerli a bada. Giro inutile, direi... A lì, arrivati, un infubo, così, stava lì, casualmente. Ehi, Ratchet, sono Grim, ho seguito le tue avventure e sono davvero felice per te. Senti, non so se te l'ho mai raccontato, ma ha un fratello che vive su Pochitaron. Si chiama Fenton, ci sentiamo di rado, visto che lui è una distanza fatica. Ma stamattina mi ha richiesto aiuto. Dice che Drek sta attaccando Pochitaron con questi vitro-saccheggiatori. Suppongo che ai Blarg serva l'acqua dei loro cerni. Ho provato a chiamare i ranger, ma il capitano qua, che mi dirotta sempre la sua gente. Comunque, se avessi tempo, potresti fare un salto a vedere come sta. Grazie, ragazzo. Sono orgoglioso di te. Quindi poi deve mandare anche a Pochitaron. Tanto però mi sa che svelato strada e che mi se ne manda dritto. Andiamo appunto da Corea. Chiede che mi viene da dritto. Penso che giù alla destra come ho fatto prima. Come sempre, mi sta e zurco. Ho avuto il pixelatore, se no cosa c'è che è in grado di salire? Combustore, eh. Diciamo, alleniamo tra virgolette quest'armi. Mi immaginavo che c'era un buon spazio d'oro. Questo è rimasto uguale alla prima edizione. Diciamo questa tra virgolette area segreta. no per caso pensavo di farcela cosa posso fare? oh fermati no dai ce l'ho fatta allora no ormai culo vai fatemi fare il giro poi si va avanti guarda se c'è qualcosa altro bello devo dire che c'è tanto davanti dai tempo di bailar ma che c'è tanto ben fatto forza l'osservatorio è da questa parte torniamo su addio e ho cascato di sotto di ora devo andare di va a quanto pare si è chiuso di va al su però va anche la mappa però nulla quello è andato a senso meno male comunque c'era qualcosa morte d'orio però di perso ho sbellato strada è andato a senso è andato a senso a quanto pare sono arrivati i rinforzi diamoci da fare dai è sbagliato vediamo come da nulla è buato questa specie di calerma non è andato a senso non è andato a senso me ne fai quelle torrette laser potrebbero crearci dei problemi dovremo trovare un'altra via d'accesso tu vai avanti io ti copro non è andato a senso non è andato a dire il capitolo c'è il guerra fondaio il re del lancerazzo ma prendiamolo dai bella potente io sono disfatti di riascita come se anche questa storia non mi piace se track riesce a distruggere l'osservatorio non resterà nulla tra lui e ogni singolo pianeta del sistema oddio dov'è capitato quark ha detto che doveva occuparsi di un'urgentissima questione da ranger strano quindi ora dipende tutto si 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 eccoci qua maggiungo come sempre fatemi prendere un attimino estremamente ricercito a parte la punizione la cifra di serecari la pd va via sballa cosa si fa Vai Nuova carta Oh Percorsi e allevamenti di quark Facciamo sviluppare qualcosa che mi comincia a sparare No, sembrerebile Già ancora Voleva di va La bomba ti cerova di sotto Meno male c'è questa barriera di tipo E' una sorta di scudo La piccola e tanto che scudo è una sorta di arma aggiunta Che ci siamo in gioco 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 Ma lei è andata Ancora Sono tanto l'ora Che ci sono tanto l'ora No arrivo Non lo avremo Non lo avremo Lei è di farci Che ci siamo in gioco Lei è la nostra Via ribera Corriamo Il canone baluardo dell'osservatorio Forza Dobbiamo aprire questa porta Vi e andiamo addio il sistema costo di passatori per aspettare che c'è qualche altra scatola un po questo blocco ha misure di sicurezza avanzate ho aggiornato il tacco ti aiuteresti a collaudare un attimo ora prova la funzione perfetta grazie d'ora in avanti ricorda di usare questa funzione oh no questo sblocca solamente i consigli di via ok addio casano di nulla ma casimo ne blocca aspettate devo trovare il moda fe me le blocca per forza oh no no aspettate com'è aiuto allora allora che questi due siano qui questo è un po' ma sicuro però c'è da spostare questi ma dire ma rimmarcani autobiolazione tra l'azione non mi riusci mi dispiace non mi diceva, doveva fare di fargli troppo tempo Usa il cannone ionico dell'osservatorio contro le navi da guerra Ah ok, ah, che cariata ma scopita questa città Sì, è vero, è vero, è vero, sì Il cannone dell'osservatorio pronto, il cannone è pronto, spara! E' uno, vabbè là non è così difficile Ah, lo spesa, crei che hai visto che roba Oh, ma con grandazioni Il cannone dell'osservatorio è pronto Guarda che è fallito Addio, 10 sparano Il cannone dell'osservatorio è pronto, 25 tercetti Il cannone dell'osservatorio è pronto, 25 tercetti Dai, dai! Il cannone dell'osservatorio è pronto, 75 tercetti Nonca uno Il cannone è pronto, spara! Boom! E andiamo di Si stanno ritirando È fatta! Drek ha avuto la sua lezione Mai mettersi contro i ranger galattici Sì! Sì! Dovremmo tornare alla nove Dovremmo tornare alla nove Confermalo! Confermo, Brax Tutte le navi da guerra stanno ripiegando verso quarto Siete stati magnifici Sottoscrivo! Mi scuso per l'assenza Comunque ero con voi con lo spirito Raduniamoci e inseguiamo quei plark fino a quarto Riturmuto capitano! Arriviamo a volo! Il peggio è passato L'hai sfangata alla grande, Ratchet! E anche tu Glenn, mi aspetta entrambi su quarto Entra la nave Inserisco le nuove coordinate Battaglia proprio completata Non c'è nemmeno niente di facoltativo Come per esempio C'è a Gaspar in altri pianeti Quindi si va Quarto e Pukitaru Andiamo a Pukitaru, vai! Io direi che Col fatto che abbiamo completato A quanto pare va per il 100% Il pianeta a livello di obiettivi Il pianeta di prima battaglia Io direi che dopo questo mini filmato Direi di concludere il video qua L'episodio qua Fatti vedere cosa ci sarebbe da fare nel prossimo episodio Avete sentito? Attivate i saccheggiatori e schierate le squadre di terra Una volta che solo avvicinarsi Avvicinarsi Correttate Boia, sono briciolato Io anzi lo termino qua Probabilmente sarà da fare Sicuramente sarà da sistemare questa cosa qua con l'acqua E da distruggere Secondo me Quindi niente ragazzi Terminiamo l'episodio qua E poi appunto già dal prossimo Andremo a parlare con quei ragazzotti Via Grazie alla visione Come sempre Ci vediamo al prossimo episodio Ciao Ciao Grazie a tutti Ciao 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 Ciao